Un'esperienza piacevolissima legata al fatto soprattutto che eravamo in tanti a partecipare, quindi interessante la modalità in cui vengono proposti gli spunti e mi sembra in questo caso quella a cui ho appena partecipato è stata un'esperienza positivissima perché credo che poi il lavoro del moderatore è stato molto facile, in quanto poi l'audit che in qualche modo avete selezionato e scelto voi era comunque molto propenso a parlare, esprimersi senza troppe timidezze, quindi i temi che sono comunque usciti fuori, contrariamente a quello che mi aspettassi che magari era una preparazione, quindi proprio un esprimere quello che avevi tu a casa pensato come compito, invece è stata tutta altra cosa, quindi molto più semplice, molto più light, molto più vivace anche in termini di passaggio del tempo. Ma guarda questa era l'unica cosa a cui pensavo venendo, considera che avevo visto il tema un'ora prima che arrivassi qui e pensavo un po' a me perché io comunque sono un ingegnere che poi ha lavorato in ingegneria finanziaria e poi ha lavorato nel mattone, nel real estate, quindi voglio dire è anche qui il parallelismo, come la fisica pervade il mondo, il mondo inteso come essenza, come contenuto, la fisica pervade anche poi le nostre persone, le nostre carriere e quindi anche nel mio senso, nella mia esperienza sono partito da un concetto, da uno studio, da un imprinting molto legato alla fisica e mi sono evoluto su dei concetti che tendenzialmente, macroscopicamente ne sembrano lontani, ma invece ne sono molto più vicini e questo oggi è anche la dimostrazione. La fisica nel concetto più filosofico è sicuramente più vicina a quello di quello che pensiamo, a tutto il nostro mondo. Credo che debba essere portata anche nelle aziende come è emerso oggi dal contesto, la discussione è emersa oggi in un parallelismo, ci ha fatto vedere una bolla che in qualche modo emergeva solitaria e tante altre bolle che invece emergevano insieme, la diversità tra i due qual è? Per me l'individualismo e il gioco di squadra, il gioco di squadra è fatto di condivisione e la condivisione è fatta di diverse teste pensanti che nella loro eterogeneità esprimono liberamente e democraticamente la loro opinione e la summa delle opinioni dà il nuovo modello, la nuova strategia, almeno questo ci si auspica. Poi seppur rimanesse fino a se stessa comunque è un aver sentito tante diverse campane che in qualche modo possono pensare che in momenti più lunghi si arrivi a una nuova definizione di strategia, a un nuovo modello di strategia. Grazie. Grazie.